Porta oltre la sbarra, oltre lo stagio, la gamba tesa, la punta, tese le braccia, spingi. Tese le gambe, tese, non sono tese, tese. Estendile sopra. Un, due, tre, cinque, forza, altri due. Quattro, l'ultimo. Forza, tese le gambe, mettilo a punta sempre. Uno, su, chiudi. Due. Chiudi. Tre. Ok, tese la gamba destra. Un, due, tre, buono, vai, quattro, buono, sì, cerca di scendere sempre di più, flettere tutte le gambe verso il busto, vai, tese la gamba destra, quattro. Un, due, tre, cinque, sei, sette, otto. Nove. Sì, scendi, 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 ancora tira. Ok. Solleva un po' più le ginocchia, sollevale un po', ok. 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 Solleva un po' più, Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 3, 4, 6, 7, 11. 2, 3, 4, 6, 7, 11. Grazie. 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 Grazie.